salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video oggi andremo ad attivare una codifica che di solito si fa con il VAG ma questa volta facciamo la stessa procedura ma con l'OBD 11 così vi farò vedere come con la stessa codifica del VAG andremo a fare questa procedura che è molto semplice anche un l'OBD 11 questa qua come avete già visto è un Audi A4 una 8k e già abbiamo installato l'OBD 11 sotto la sua presa OBD eccoci qua una volta in macchina come già vi ho fatto vedere colleghiamo il nostro OBD alla macchina e prendiamo il nostro telefonino colleghiamo l'OBD al telefonino tramite la sua applicazione originale e andiamo a cliccare qua sopra qua e c'è scritto connetti, connetti ci chiederà di attivare il Bluetooth, attivare il Bluetooth farà la sua connessione dopodiché è scritto scansione facciamo la scansione di tutte le centraline se nel caso dovrebbe dare qualche errore comunque qualche unità di controllo dovreste dire guaste comunque anomalie e quant'altro cliccate cancellate l'errore e poi iniziamo a fare le prime codifiche la codifica che andiamo a fare adesso è la stessa codifica che adesso vi faccio vedere vedete che noi adesso abbiamo 647 crediti è la stessa codifica che andremo a fare e questa qua adesso vi faccio vedere ne facciamo due uno dell'uptime vedete questo qua che costa 10 crediti e l'altra invece ecco qua il gauge testa cioè nel senso le lancette del contachilometro come vedete qua fanno il giro per diciamo il testa delle lancette quindi 10 crediti qua più 10 crediti sull'altra codifica ecco qua sarebbero 20 crediti quindi noi dopo aver fatto questa codifica con le applicazioni normale giustamente vedete che adesso è in off giustamente non è attiva andremo ad utilizzare questi crediti e quindi ci scalano i crediti noi andremo a fare la stessa codifica ma senza entrare nelle applicazioni e quindi senza consumare i nostri crediti come dobbiamo fare per prima cosa dobbiamo avere come c'ho io qua vedete la lista delle di quelle che noi dobbiamo fare io per comodità mia mi sono segnate tutte le cose passo passo piano piano e me le sono segnate allora adesso andiamo a fare questo qua il test della lancette del contachilometri e l'attivazione dell'uptimer con il temperature dell'olio come si fa? allora vi metto tutto insieme così che riuscite bene a capire ci facciamo prima la prima test lancette del contachilometri adesso vi faccio vedere che nel momento in cui io vado a togliere l'alimentazione al quadro tolgo la chiave la rimetto vedete non fa nessun cecca le lancette nel contachilometri del contachilometri vi faccio vedere nuovamente ecco qua vi vedete non fa nessun cecca adesso vi faccio vedere la codifica vera e propria come sempre tenete la corrente al quadro mettete la corrente al quadro e andiamo a farci la nostra codifica ci facciamo prima la codifica delle test delle lancette e poi dopo ci andiamo ad attivare l'uptimer questo qua allora come ci dice qua andare in modulo 17 andiamo qua nella macchina ecco qua clicchiamo qua sopra qua dove sono queste lignette queste qua perfetto e andiamo in modulo 17 7 8 9 10 15 16 17 eccolo qua una volta cliccato qua andiamo in codifica lunga come è scritto pure qua codifica scusate codifica completa che qua ci tiene codifica un cosiddetto qua poi andiamo in selezionare byte 0 1 adesso stiamo in byte 0 0 questo qua andiamo a selezionare tutti i byte che ci siamo 0 1 0 2 6 7 8 9 e se la centralina porta altri byte questo numero si sposta e fino ad arrivare a 16 17 18 19 anche 20 23 byte nella stessa stringa questa linea di sopra sono i byte queste qua di là sono i bit vedete byte sopra e bit sotto bit 2, bit 3, bit 5, bit 7 e così via adesso la lista cosa ci riportava ci riportava che dovevamo andare in byte 0 1 quindi andiamo nella byte 0 1 e di spuntare il bit 0 quindi il bit 0 sarebbe questo qua che adesso è deselezionato che sarebbe proprio questo qua ci clicchiamo sopra vedete che vi compare verde e andiamo ad attivare la codifica vera proprio una volta schiacciato qua codifica completata vedete i crediti non si era scalati 647 erano e 647 sono rimasti adesso per vedere se la codifica è stata attiva non ci resta nient'altro che uscire dalla centralina e cerce il nostro rontolo adesso abbiamo attivato il test delle lancette ok togliamo il quadro rimettiamo ed ecco qua avete visto senza utilizzare i crediti siamo andati ad attivare questa codifica qua ora oltre questa qua andiamo ad attivare l'app timer con la temperatura dell'ore che se vedete nel quadro non è attivo questa è la velocità questa qua perché la porta è aperta la andiamo a chiudere vi faccio vedere orario consumo medio questo qua è il secondo consumo medio consumi e serbato e quant'altro questo qua invece è quello che stiamo consumando litri per ora e poi ritorniamo ad un altro orario quindi in questo caso il timer e la temperatura non sono comparsi ricapitoliamo consumi medi e quant'altro 1 e consumo medio beh disponibilità di serbato che 2 poi il consumo di quello che stiamo consumando attualmente adesso e in un altro altro la velocità andiamo ad attivare adesso il lap timer come si fa? lo stesso precedente lo stesso precedente di prima andiamo nuovamente a prendere il nostro telefonino lo sblocchiamo e andiamo nuovamente nelle centraline adesso qua ci riporta per attivare il lap timer dobbiamo andare un'altra volta nella 17 e quindi andiamo nel 17 eccola qua vi ricordo che i crediti sono 647 adesso codifica codifica qua codifica completa poi poi dobbiamo selezionare il byte un'altra volta il byte 1 adesso c'è da 0 andiamo in bit 1 e dobbiamo andare ad attivare spuntare il bit 3 per il lap timer vedete in questo caso anche qua il bit 3 non è selezionato che giustamente la funzione lap timer non è attiva nella macchina andiamo qua andiamo a selezionare nuovamente per confermare la codifica ecco qua codifica accettata e ci andiamo a controllare se nel quadro ci ha attivato questa funzione come sempre vi consiglio sempre di uscire dalla centralina che avete appena effettuato la codifica andiamo qua e ci andiamo a vedere la codifica effettuata con questa levetta che è posta sotto alla leva eccola qua vedete ci andiamo a vedere e cambia eccola qua andiamo a cambiare tutti i menu all'interno del nostro quadro come vedete già è apparsa la temperatura dell'olio e il lap timer andiamo avanti esce un'altra volta il consumo medio eh disponibilità del serbato dei chilometri consumo istantaneo di quello che siamo che è acceso tipo l'aria condizionale se vi faccio vedere vedete il climatizzatore velocità attuale e l'app timer vedete l'app timer con il temperatura dell'olio quindi in questo caso che abbiamo fatto abbiamo attivato la funzione senza andare ad utilizzare i nostri crediti vedete vedete sempre 647 crediti e così via con tutte le altre codifiche la comodità del del diciamo del bug è di avere un computer e quindi eh con le scritte o che sia in inglese andiamo a tradurlo in italiano o che sia in italiano riusciamo bene o male a capire quello che stiamo facendo invece con l'obd 11 come in questo caso nel momento in cui vado a selezionare farvi vedere vado in byte 07 da selezionare queste spunte qua e adesso non so quello che sto muovendo vedete ad ogni modo prima di fare una qualsiasi codifica e di fare una qualsiasi eh prova qualsiasi cosa che state facendo prima di tutto assicuratevi bene di quello che state facendo come seconda cosa vedete questa stringa questa cosa qua 26 00 52 scrivetela tutte quante oppure vi fate oppure vi fate uno screenshot della dell'immagine proprio così che eh non nel momento in cui vado a muovere vedete che cambiano anche i numeri da sopra là nel momento in cui vado a muovere e volete ritornare un'altra volta normale andate andate qui e tornate selezionare un'altra volta vedete la stringa come la prima questa procedura qua è valida per un po' tutte le macchine quindi indifferentemente dalla macchina che noi abbiamo che stiamo utilizzando la procedura è sempre la stessa quindi quindi comunque abbiamo tutte le centraline come nel bug e abbiamo tutti diciamo le codifiche bit e byte come sul bug l'unica differenza ho detto che la non è scritta in qualsiasi in qualsiasi centralina andiamo o in qualsiasi vedete pure l'elettronica c'è dire vedete pure qua non ne sceglie da nessuna parte quindi dovete stare molto più attenti a quello che state facendo ok ragazzi spero che questo video vi sia stato utile e che dirvi come sempre vi consiglio di iscrivervi al canale condividere sempre il video mettete un mi piace e se vi serve qualsiasi altra cosa scrivetelo nei commenti o comunque avete la mia mail nella descrizione del video e cerco di esservi sempre utile ok ragazzi ciao ragazzi al prossimo video